A Betone Monamour, foto di Giusti Valte, signore e signori, buona visione. È il 2017, questa, come si presenta via Bagatti, questa mattina, signore e signori, vi farò vedere uno scorcio di questa meravigliosa strada invernale dell'Abetone. È veramente A Betone Monamour, per l'amante della montagna, della neve e dell'aria pura. A Betone Monamour 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 Grazie a tutti